Ciao Roby, tutto posto, sono qua in mezzo alle nostre Panamerica, canto il grey metallic, black, altezza adattiva, in pronta consegna, solo in armi di Vizio Monza, vi aspetto dalle nostre parti, seguimi, sentimi Roby, guarda tutto qua, Roll Glide ST, nella colorazione black ST, portore 117, 1924 cc in grata, in pronta consegna, Rock King Special 114, in pronta consegna, in Ima Marley comincia a darci un po' di motorette, una bella soft tail fat bob 114, gunship grey, guardate come è sportiva questa, bella bella bella, in pronta consegna, vi aspetto in armi di Vizio Monza, camicettino picchiato su oggi, sono bello Roby, si si, sei una meraviglia, vi aspetto ragazzi, a presto.